E' uno degli appuntamenti sportivi più importanti di questa stagione, parliamo dei campionati assoluti di Atletica Leggera che si terranno allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara, assessore non solo calcio, anche atletica in una struttura completamente rifatta per quanto riguarda la pista dello Stadio Adriatico. E' un grandissimo evento, è il terzo nella storia di questa città in 67 edizioni che giunge a Pescara ed è uno dei più grandi se non il più importante evento per quanto riguarda l'Atletica Leggera a livello nazionale. Credo che l'Abruzzo nelle varie discipline, in questo caso nell'Atletica Leggera e con l'Atletica Leggera si sia davvero fatto conoscere, abbia organizzato e bene con le tante società, federazioni, città, amministrazioni comunali e rappresentato una vetrina, una promozione dell'intero territorio, delle sue infrastrutture, della sua organizzazione. Siamo veramente orgogliosi come Regione Abruzzo di aver sostenuto anche quest'ulteriore grande manifestazione. Come assessorato allo sport avete puntato anche sui grandi eventi quest'anno e tra qualche settimana ce ne sarà un altro, il trofeo Matteotti che torna in una nuova veste e nuova data. Abbiamo voluto contraddistinguere il lavoro di questo governo regionale sullo sport con una grande affermazione sia ai fatti e non agli slogan. Basta gli annunci, vogliamo passo dopo passo portare a casa importanti risultati e voglio ricordarlo, dal ciclismo al tennis, dal volley al calcio, dallo sci per arrivare al golf e a tanti altri eventi abbiamo rappresentato con onore tutti insieme con il mondo dello sport la Regione Abruzzo. Abbiamo organizzato da quando è stato fatto lo stadio almeno 35 manifestazioni internazionali per cui non è che ne sono poche rispetto ad altri territori, ad altre organizzazioni, ad altre società e quindi per noi questo è un qualcosa che ci ha spinto però quando siamo partiti eravamo un po' perplessi per quello che succedeva ma sono stati veramente bravi le istituzioni.